Anche se non è proprio ufficiale, però diciamo che molto facilmente sarà ufficiale nelle prossime ore, oppure secondo me al massimo domani, visto che già comunque ieri Matteus Enrique è praticamente un nuovo giocatore del Sassuolo, visto che ieri comunque ha fatto le business medica proprio qua a Sassuolo e praticamente ha già detto le sue prime parole dal nuovo giocatore del Sassuolo. Lui dovrebbe ricoprire lo stesso ruolo di Locatelli, quindi tutti pensiamo che se per caso Locatelli Sere dovrebbe andare via, anche se ancora no, è ancora in bilico quella trattativa e vedremo quello che succederà venerdì, visto che ci sarà il prossimo incontro tra Juventus e Sassuolo e come capite ci dovrà essere proprio anche Locatelli per cercare un attimo, per chiarire un attimino il tutto, e poi vedremo proprio la Torino, poi comunque vedremo, intanto parliamo un po' di questo Enrique che come ho capito dovrebbe comunque venire al posto di Locatelli, a meno così abbiamo già sostituto, classe 97, quindi 24 anni e non è più molto giovane per gli standard diciamo del calcio, come ho capito, come ho capito poi anche visto che io non seguo il campionato brasiliano, come ben sapete, ha fatto una stagione un po' nì, un po' sottotono, robocosi, però viene comunque convocato dalla squadra brasiliana olimpica e vince anche l'Orola, quindi anche se da un po' da riserva, però ha vinto l'Orolimpico ed è per questo che è derivato solo ieri, diciamo, visto che ieri è atterrato, ha fatto tutte le biste mediche eccetera, perché comunque stavo giocando un olimpiade, quindi non poteva venire, però è già chiusa questa trattativa da un bel po' di tempo, quindi adesso vediamo, perché comunque ne parlano bene, l'unica cosa che l'abbiamo preso diciamo poco, mi pare a un massimo 15 milioni con il bonus compresi eccetera, giusto perché questa stagione l'ha un po' fatto sottotono, ora comunque vedremo quello che riuscirà a dare a questo Sassuolo se veramente sarà al posto di Locatelli, oppure chissà, magari giocheranno insieme, ancora noi non lo possiamo sapere, visto che ancora, come già aveva detto, la trattativa tra Juventus e Sassuolo per Locatelli, ancora non si è chiusa, il giocatore sembra che vuole solo la Juve, altrimenti credo che rimarrà, vista che ha già rifiutato tutte le altre destinazioni estere, e niente, quindi visto che vuole rimanere qua in Serie A, l'unica che sembra disposta a pagare sarebbe proprio la Juve, quindi alla fine vediamo questo venerdì, che come ho capito sarebbe il quarto contatto di questo trattativa, e le due parti stanno un po' stancando, è anche per questo che viene anche Locatelli, quindi vedremo, alla fine vedremo se questo Enrique, scusate se sono sbagliato la pronuncia, giocherà al posto di Locatelli, oppure con Locatelli, magari scrivete qua sotto nei commenti, secondo voi giocherà con Locatelli, oppure praticamente verrà al posto di Locatelli, vedremo, alla fine vedremo, non posso comunque dare giudizi personali, diciamo perché uno non conosco il giocatore, oltre che ok ne parlano tanto bene eccetera, però si parla anche che l'ultima stagione l'ha fatto un pochettino sottotono, e quindi diciamo che comunque tra i video di YouTube, nei video di YouTube dicono che tutti siamo a dei fenomeni, quindi vedremo, facciamo un attimo ambientare questo giocatore, poi comunque vedremo cosa saprà dare veramente queste Enrique, al sassuolo che verrà di Gionese, quindi vedremo, poi questo qua è anche praticamente il primo vero ufficiale, acquisto ufficiale del sassuolo, poi come ho capito tra un po' ci saranno, ci sarà anche una nuova vendita, che io vabbè, avevo detto che si era svincolato, però poi parliamo poi del video proprio dedicato, intanto comunque qua sotto nei commenti, ditemi non è tutto, cosa ne pensate di questo nuovo giocatore, se già lo conoscete, e poi comunque ditemi, se comunque secondo voi giocherà con Locatelli, oppure al posto di Locatelli, scrivetelo qua sotto nei commenti, e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao, e sempre forza sassuolo e sempre forza Italia, ciao!